Ultima settimana per la mostra Quelli di Arezzo TV al Fotoclub La Chimera in Piazza Grande. La mostra ideata da Piero Franchini e realizzata da tecnici, giornalisti e collaboratori di Arezzo TV con le loro migliori fotografie è stato un modo per avvicinarsi all'anniversario dei 30 anni dalla fondazione dell'attestata giornalistica di Arezzo TV. Nello splendido scenario di Piazza Grande è dunque ancora l'ultimo weekend a disposizione per venire a visitare la mostra. Grazie per la visione!